Brankrow, oroscopo di oggi, le previsioni di giovedì 11 aprile e dei giorni in arrivo Come ogni mattina anche oggi, giovedì 11 aprile 2019, l'oroscopo del giorno di Brankrow che sveviamo in questo pezzo è tratto dal libro Brankrow 2019 Calendario astrologico, nel quale l'astrologo ha reso nota la situazione di cielo, stelle e pianeti, in modo molto dettagliato e approfondito, mese per mese, fino a dicembre 2019 Nove, noi ci limitiamo a riprendere, ovviamente, solo piccole indicazioni generali relative all'oroscopo di oggi, 11 aprile, con previsioni astrologiche di Brankrow anche per i prossimi giorni e, in generale, per la rimanente parte di questo mese, per ogni segno Domani per l'oriette potrebbe presentarsi, in famiglia, una situazione che non va affrontata con troppa emotività Oggi vigilia di una giornata ideale per fare nuovi incontri se si appartiene al segno del toro In arrivo, per i gemelli, una Pasqua con un cielo molto interessante Previsioni oroscopo di Brankrow di oggi, 11 aprile, e dei prossimi giorni degli altri segni Le previsioni zodiacali di Brankrow di oggi, giovedì 11 aprile 2019, e dei giorni in arrivo, relative agli altri segni, parlano poi di pensieri affettuosi in arrivo, domani, nel cuore dei nati Cancro, mentre il leone secondo l'astrologo e bene si prepari per fare un viaggio a Pasqua Cautela con i farmaci, le bevande e alla guida, alla fine di questa settimana, se si è della Vergine, mentre fra 24 ore ci sarà una luna contraria per la bilancia Guardarsi intorno domani, dice Brankrow, se si appartiene al segno dello scorpione, mentre il sagittario, sempre domani, e bene mantenga il buon umore, stando ancora a quanto dice il re delle stelle, come abbiamo già accennato in parte anche con l'oroscopo reso noto ieri Oroscopo oggi, 11 aprile 2019, di Brankrow, le previsioni del giorno e del prossimo periodo Infine, passando alla situazione astrale degli ultimi segni judiacali, le previsioni dell'oroscopo di Brankrow di oggi, 11 aprile, e dei giorni in arrivo, invitano il capricorno alla cautela domani, parlano di un fastidio di urano che persiste, per l'acquario, per tutto il mese, e annunciano un evento positivo, per i pesci, che potrebbe avvenire entro le prossime 48 ore Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like